Alle soglie del suo ventennale, la rassegna Teatro Oltre, ideata da Amat per mettere in rete i teatri della provincia di Pesaro Urbino, amplia la sua offerta lanciando una diciannovesima edizione con sconfinamenti fuori provincia in una proposta di 36 appuntamenti fra teatro, musica e danza in 13 città. Ad aprire il sipario sarà proprio la danza il 18 gennaio allo sperimentale di Pesaro con la prima ed esclusiva regionale di Beat Forward Studio che segna la collaborazione tra Igor Formoreno e Collettivo Main. Il 28 gennaio sarà invece il teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo ad ospitare il cuore La Milza, il lago di Cromos 3. Primi due di 36 appuntamenti che si estenderanno fino al mese di giugno. Proviamo a descriverlo come un passaggio da programma a progetto, anzi a dispositivo in qualche modo di attrazione e presentazione della scena del presente. Ci siamo accorti appunto che Teatro Oltre, la soglia dei vent'anni, poteva diventare una proposta importante per un territorio più ampio di quello che solitamente ha toccato, in cui si è svolto. Penso in particolare appunto il protagonismo di Pesaro con Fano e Urbino e le città della rete della provincia di Pesaro e Urbino, ma l'abbiamo appunto trasformato in qualche modo, anche se in maniera iniziale, appunto in un dispositivo per cui proposte legate alla scena del presente potesse essere presentate poi sui palcoscenici di tante città, diverse, da Ascoli Piceno insomma a Senigallia, superando il confine geografico, appunto dando a questo progetto una forma in qualche modo nuova nella continuità. Spettacoli e artisti a 360 gradi. Vedi Alessandro Bergonzoni che si esibirà ad aprile a Fabriano e Fano col Teatro della Fortuna che ospiterà il 28 febbraio anche chi ha paura di Virginia Woolf con Sonia Bergamasco e Vinicio Marchionni. Mondavio ospiterà il monologo Smarrimento di Lucia Mascino, Urbino, Stefano Sabelli con figli di Abramo. Il Teatro della Concordia di San Costanzo vedrà in scena Apocalisse Tascabile. Cagli vedrà il ballo ispirato ai canti russi della Compagnia Mora, Leone d'Argento alla Biennale di Venezia 2020. Al Teatro Angel dal Foco di Pergola spiccherà la performance Tycoons, a Fossombrone le atmosfere di Joa de Vivre. Pesaro vedrà anche Emma Dante, il suo tango delle Capinere, al Teatro Sperimentale e la prima nazionale del 18 febbraio alla Chiesa del Suffragio di The Present is Not Enough, progetto di Silvia Calderoni e Elenia Caleo.